FisioCreme Spray Activize è un dispositivo medico in spray che, grazie all'effetto freddo rapido, riduce la sensazione di dolore da lesioni muscolari ed articolari, favorendo il recupero fisico in caso di contusioni, strappi, slogature e distorsioni. FisioCreme Spray Activize è un antidolorifico che associa gli estratti naturali come arnica, calendula, malaleuca e iperico alla terapia del freddo. Come si usa? Applicare a 20 cm su pelle intatta per 2-5 secondi con movimento circolare. Non è necessario massaggiare, ripetere l'operazione all'occorrenza. È adatto al di sopra del freddo di sopra.